Ma non devi fare queste cose, è un bel Ehi, a mano Roberto Rimettete a posto Lascia Roberto lì Olli, non serve adesso, c'è Andrea su Dai Andrea, rapido, guarda la palla, gira, piedi, entra Robè un po' più indietro, è lunga, Roberto Eccola, non la fa batte, come arriva, bravissimo Gioca, gioca, Filippo devi aiutare, Filippo Bazzà Bazzia Camini, finché non esce, segui Bravo Non la risposta Dai, bravo, va bene Dai 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 Dai